Chiedo scusa, signor Presidente, vorrei aggiungere qualcosa. Prego. E' vero, in un diario ci possono essere scritte cose di fantasia, come dicono i vostri avvocati. Ma in una pistola ci possono stare soltanto delle pallottole. Questa era la pistola di mio padre e poi di mio fratello. Io so che voi avete il modo di scoprire che le pallottole uscite da questa pistola hanno ammazzato dei cristiani. Mi rendo conto che mio padre e mio fratello non erano migliori di quegli assassini. E' vero, sono venuta qui per avere vendetta. Adesso chiedo giustizia. Ho capito che non è la stessa cosa. Ho capito che non è la stessa cosa.